le cose semplici sono spesso anche le migliori quello che muove erba life nutrition è molto semplice rendere il mondo più sano e felice come avviene questo attraverso distributori orientati al raggiungimento di obiettivi sono loro la nostra differenza cosa facciamo otteniamo risultati che siano di ispirazione per una vita migliore abbiamo in comune dei valori in cui ci riconosciamo lavoriamo insieme miglioriamo sempre e facciamo sempre la cosa giusta magari ti riconosci anche tu con quanto ti ho appena detto è semplice no vorrei parlarti di un'azienda che è nata 40 anni fa un'azienda nata dal sogno di un uomo mark yukes il nostro fondatore aveva una visione rendere la sana nutrizione disponibile per tutti il sogno di mark ha portato alla luce erba life nel 1980 a los angeles oggi quell'azienda è diventata una multinazionale presente in oltre 90 paesi nel mondo sono più di 4 milioni distributori che hanno abbracciato l'opportunità erba life nutrition e la portano in ogni angolo del pianeta mentre oltre 8.000 sono i dipendenti che li supportano nel loro lavoro per darti un'idea della dimensione attuale il giro d'affari di erba life nutrition nel 2018 è stato di oltre 7,7 miliardi per un fatturato di 4,9 miliardi di dollari ti voglio fornire anche una fotografia di quella che è la realtà che più da vicino ci riguarda oggi l'italia è un paese di 60 milioni di abitanti con una disoccupazione di oltre il 10 per cento ed una disoccupazione giovanile che al sud raggiunge il 40 per cento un potere di acquisto che si riduce sempre di più pensa che l'indice di fiducia è davvero basso rispetto ad altri paesi europei gli italiani stanno perdendo la fiducia ma ci sono anche buone notizie l'aspettativa di vita cresce ci si aspetta di vivere in media 83 anni e considera che nel 2036 un italiano su tre avrà 65 anni o più il contraltare che ogni cittadino di qualunque età spende circa 500 euro in farmaci ogni anno erba life nutrition è un'azienda nata per eccellere nei prodotti per il controllo del peso negli anni l'offerta si è ampliata ed oggi ci rivolgiamo anche ad altri mercati di uguale importanza l'enorme mercato del benessere della salute un colosso che a livello mondiale vale oltre 98 miliardi di dollari ed infine la nutrizione per lo sport un settore destinato a crescere e che si prevede già nel 2019 possa superare in valori assoluti il settore del controllo del peso erba life nutrition è presente in tutti e tre i mercati mentre nell'ambito del controllo del peso abbiamo una presenza già ampiamente consolidata c'è tanto da fare con riferimento al mercato del benessere della salute e a quello della nutrizione per lo sport ciò che rende ancora più appetibili questi tre mercati e che le previsioni di crescita per il prossimo futuro vanno dal più 5 per cento al più 11 per cento l'anno ma torniamo in italia negli ultimi anni ci siamo dati da fare e dal 2018 il fatturato che in erba life misuriamo in punti volume è cresciuto di oltre il 60 per cento ti vengono in mente altre realtà che in italia sono cresciute così nello stesso periodo ma vediamo più nel dettaglio come lavora questa azienda pensa ogni giorno vengono spediti 2400 ordini in tutto il nostro paese 2400 pacchi che raggiungono da nord a sud tutta la penisola isole comprese quotidianamente in italia erba life ha una sede a roma e due experience center uno sempre nella capitale ed uno a sesto san giovanni a milano in questi centri è possibile vivere una vera e propria esperienza erba life l'azienda organizza tutta una serie di attività per far conoscere la nostra realtà e di nostri prodotti in erba life italia lavorano oltre 90 dipendenti che si prendono cura dei distributori e li supportano per svolgere al meglio l'attività quando si parla di nutrizione e benessere la qualità è fondamentale a livello mondiale abbiamo un team di esperti che lavora costantemente per garantire la qualità della nostra offerta e fare in modo che i nostri prodotti siano sempre all'avanguardia da un punto di vista medico scientifico la qualità è garantita da una filiera controllata che va dal produttore al consumatore e che ha i suoi punti di forza nell'attenzione alla selezione delle materie prime nella ricerca e sviluppo e in un costante controllo del processo produttivo questo c'è dietro ognuno dei nostri prodotti ci sono diversi stabilimenti produttivi in giro per il mondo tra questi uno si trova proprio in italia e produce uno dei nostri prodotti più conosciuti il formula 1 ogni anno vendiamo in italia un milione e cinquecentomila barattoli di questo sostitutivo del pasto in questo video puoi vedere alcune delle fasi produttive che avvengono nel nostro paese un altro punto di forza è la grande opportunità che c'è dietro erbalife nutrition ovvero la possibilità di diventare distributori indipendenti un'opportunità che è disciplinata dalla legge italiana la legge 173 del 2005 tutela non solo la figura dell'incaricato alla vendita ma definisce anche ciò che è legale in italia dal punto di vista del network marketing avere una disciplina esauriente che riguarda il nostro modello di business è garanzia anche per far comprendere le differenze tra ciò che è legale e ciò che non lo è Erbalife Italia è anche parte di Avedisco un'associazione che tutela i consumatori e le aziende del settore questa è un'ulteriore garanzia per chi vuole operare nell'ambito della vendita diretta perché le aziende per far parte di Avedisco devono rispondere a criteri di trasparenza e chiarezza nel prezzo e nell'esposizione delle caratteristiche al cliente fornire ai clienti la possibilità di esercitare il recesso garantire la qualità dei propri prodotti con le dovute certificazioni e assicurando la veridicità di quanto scritto nelle etichette fornire un servizio che grazie ai nostri distributori indipendenti è garantito in maniera capillare in tutta Italia ogni giorno Erbalife è presente in Italia dal 1992 e negli anni è diventata sempre più conosciuta al punto che oggi è spesso citata negli articoli dei giornali e sono tante le testate che parlano dei nostri prodotti e dell'opportunità di business Erbalife ama lo sport perché lo sport sposa in pieno i valori Erbalife siamo partner del CONI che ha certificato i prodotti della nostra linea di nutrizione per lo sport sponsorizziamo diversi atleti professionisti che utilizzano i nostri prodotti per migliorare le proprie prestazioni ti sto parlando di figure di primo piano dello sport come Arianna Fontana portabandiera alle ultime olimpiadi invernali in Corea Arianna Enrico atleta olimpica pluripremiata Simone Giannelli Giuseppe Vicino fino ad arrivare alla New Entry Simona Quadarella astro nascente del nuoto italiano e poi la Federazione Italiana Nuoto la Federazione Italiana Atletica Leggera e la Trentino Volley anche a livello internazionale sono tanti gli atleti e le squadre che hanno scelto Erbalife Nutrition come partner nel loro percorso di eccellenza nello sport come ti ho accennato in precedenza la scienza ha una parte importante nel nostro lavoro ed è per questo che Erbalife Italia ha contribuito di recente a quattro pubblicazioni scientifiche pubblicate insieme all'Istituto di Medicina per lo Sport protocolli nutrizionali divisi per disciplina dove viene approfondito il discorso della nutrizione legata allo sport e dei benefici che può portare alla performance sfruttando tutte le potenzialità dei nostri prodotti siamo inoltre presenti da diversi anni sul prontuario degli integratori quindi puoi trovare informazioni sui prodotti Erbalife Nutrition anche lì abbiamo molto a cuore anche la formazione considera che ci sono ogni anno diversi eventi aziendali dove è possibile partecipare a training con molteplici obiettivi formativi eventi con migliaia di altri distributori dove si parla di Erbalife si ascoltano storie di successo e si riconoscono le persone che hanno raggiunto determinati traguardi abbiamo eventi dedicati ai giovani ed eventi di leadership nei quali sviluppare le proprie competenze e professionalità parallelamente, sempre in giro per l'Italia ci sono training mirati dal punto di vista della nutrizione e dello stile di vita sano e attivo grazie ad alcuni dei nostri esperti che intervengono per affrontare i temi che più ci stanno a cuore ma un altro aspetto è quello probabilmente più prezioso siamo orgogliosi della reale differenza che caratterizza Erbalife che è data dai distributori che sono il patrimonio aziendale più grande in Erbalife ogni giorno sono erogate migliaia di ore di formazione praticamente in ogni città grazie ad un sistema di supporto capillare che ti aiuta in ogni fase del tuo percorso come distributore e della tua esperienza come cliente negli anni l'innovazione tecnologica è stata fondamentale ed oggi possiamo contare su strumenti all'avanguardia un'app dedicata, un portale con tutte le informazioni a distanza di un click ed un sito per la vendita online disponibile per tutti i distributori infine Erbalife nell'esprimere i propri valori e anche solidarietà in Italia abbiamo tre programmi di sostegno a importanti progetti sul territorio siamo infatti partner di Villaggio SOS di Roma, Casa OZ a Torino ed il villaggio SOS di Ostuni grazie alla generosità delle migliaia di distributori Erbalife siamo in grado di regalare un sorriso ai bambini meno fortunati fornendo un aiuto concreto questa è l'azienda e tante altre parole non servono è semplice, è Erbalife chiedi alla persona che ti ha invitato a guardare questo video quando e come puoi saperne di più grazie a tutti